bozzo però vi faccio vedere degli spoiler di casa nuova di milano e anche il look of the day e ho uno specchio gigante finalmente da cui parlarvi talmente sfatta che non mi salva neanche il filtro allora due giorni di riunioni due giorni di riunioni per lo scaffale nuovo retail con i 23 bassi la cosa che vi ho fatto vedere a milano è sullo stesso piano degli uffici nuovi che abbiamo preso perché in quelli dove siamo adesso non ci stiamo più e sarà un po' un appendice degli uffici per quello che è così grande anche se non ci vado ad abitare c'è una camera per me, una camera per i miei soci, una camera per chiunque si debba appoggiare lì perché da noi lavora gente di Brescia, gente di Roma per cui capita che qualcuno debba fermarsi a dormire a Milano così non si è costretta ad andare in albergo per fine maggio dovremmo riuscire a avere pronti anche gli uffici speriamo, oggi abbiamo visto anche come disporre gli uffici dopo una riunione in cui ci siamo scannati per due ore non ve la faccio ancora vedere perché finita sarà molto molto bella e adesso non rende l'idea di come diventerà poi finita ma secondo me mi piace e poi qua ho bisogno di voi quella cosa che vi ho postato del gioco che sarà online più o meno verso past qua in sostanza il gioco originale si chiamava Acchiappa la talpa perché da quei buchi salgono le talpe e tu le devi acchiappare nel nostro caso saliranno dei prodotti che vanno acchiappati però Acchiappa il prodotto mi fa cagare, non è che vi viene in mente un nome carino che voi siete sempre i miei geni voi lo sapete che fate parte dell'ufficio marketing Vera Lab, no? l'ufficio marketing Vera Lab è sparso in tutta Italia e ha la community più creativa del web, le fagiane buona mattina faccio una cosa divertentissima, ho la riunione per la chiusura del bilancio proprio sto già più della pelle, proprio sento proprio dentro di me un entusiasmo Acchiappa una gioia, è bello raga Acchiappa una gioia, è bello per il momento Acchiappa una gioia, è quello da battere io e la mia macchia del brufolo abbiamo degli spoiler per cui far incazzare tutto il team di Vera Lab ma voi sapete che io non tengo giù neanche l'acqua prima di fine mese arriva Golden Hour che è la crema che migliora il colorito e un'altra cosa che per me è un po' la realizzazione di un sogno c'è un progetto bellissimo a Venezia e voi sapete quanto a me piace Venezia e quindi guardate che sorrisone sono super contenta perché prima dell'estate facciamo una cosa bellissima a Venezia usciamo da questa situazione, poi mi piacerebbe cominciare ad andare a vedere i posti dove ha aperto tipo Bari, ha aperto Bari la profumeria Pepe questa settimana hanno aperto un po' di punti vendita che mi piacerebbe andare a vedere visto che hanno aperto io nemmeno li ho visti grazie a tutti